Ehi ciao a tutti, io sono Cinzia ed eccoci di nuovo con Gabrielle e Lucia Che fine hanno fatto? Non lo so Sul sul Vi faccio vedere subito che cosa ho fatto prima di iniziare a registrare Vedete qui? Avevamo Newcrest totalmente vuota Avevamo solo il bullying, quello creato da me Infatti manca anche il tetto Comunque Ho deciso di mettere qualcosina per un po' divertirci, fare qualcosa di diverso Non so, vabbè, comunque Ho aggiunto una spa Un ristorante Un locale notturno a forma di piramide, molto molto carino Un caffè Un ristorante giapponese Che penso sia un'idea davvero carina E poi qua, ah sì, un locale per karaoke Un altro ristorante vista laghetto e mare E poi basta Questo Così magari adesso non lo so Andremo alla spa o al ristorante giapponese Vediamo Magari un appuntamento a quattro Vediamo che possiamo fare Intanto mi sa che i nostri amici Sono ancora al bullying Quindi andiamo a recuperarli Scusatemi ma sono abbastanza raffreddata Cioè se vado a vedere i miei video precedenti O sono senza voce O la tosse O sono raffreddata Non mi può passare più Yeah Che felicità Ok Andiamo Dai nostri amici che sono appunto Al bullying È da tanto che non ci gioco con loro Devo recuperare Eccoli qua infatti Come ricordavo Ciao amici Ciao Ciao Allora Che ore sono le 2.50? Bene Sta lavorando da casa Bene Oh Deve raggiungere livello 3 di comicità e malizia Aspetta Ah no Questa è per la promozione Dobbiamo fare usa interazioni buffe Con 5 sim diversi Ah me ne manca uno Quindi magari facciamolo con lui Un'interazione buffa 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 Buffo È un'imitazione Mentre lui Prima di mettere play Anche lui sta lavorando da casa E sono al bullying Bravi Complimenti Ok 3 aromi diversi Nel soffettore di bolle di sapone E consiglio Un ritrovo a 3 sim Già l'ha detto ad un sim Facciamolo anche a lei Vediamo se c'è Consiglio un ritrovo Un ristorante A lei A lei Non la conosciamo A lei Non la conosciamo E lui Non la conosciamo Oh Non conosciamo nessuno E a lui Sì Facciamolo anche a lui Allora Buffo No Scusate Ho sbagliato Amichevole Consiglio Ritrovo E lui Facciamo un bar E quindi Sì Dovrebbero andare Perfetto Play Ok Facciamo tutto E poi andiamo a casa Almeno abbiamo lavorato Ci danno i soldi Ecco appunto 88 Ehi Che sono sti cuoricini Ok Lei Ha fatto Tutto Sì E a che livello siamo Di comicità Comicità Aspetta Comicità Due Manca poco Al tre Dobbiamo Ecco Cento Facciamo un po' La spiritosa Barzelletta Così aumentiamo Buffo Ci ricchi tempi Fai la spiritosa Ehi Che vuole questa Se la pensa Così Vai vai Facciamo queste cose Forza 88% Dai dai Continua Continua Fai la buffa Una storia buffa Tu hai fatto tutto Sì Deve provare Gli aromi Con le bolle di sapone Ma non ce l'abbiamo No Perché la televisione è accesa Ok Ci siamo Dove sei Almeno completiamo lei E poi Troviamo Comicità Due Dai ci siamo quasi Arrivederci Ordino a bevanda Fa tutto da sola Bene Una barzelletta Al più Ma invece vi piace La mia maglietta Con le banane La maglietta Con le banane Comicità Olè Livello superiore Ok Quindi Avremo una promozione Ok Facciamole bere Questo Sì Perché cambi posto Vabbè Bevi Bevi E poi Qui non si può mettere Il coso Il 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 Non mi vengono mai Il Non si può mettere Il soffiatore di bolle Perché Non si può Non si può Non si può Non si può Andiamo a casa Casa E casa Molto giocosa Lei E certo E lui Molto giocoso pure Che bello E ma Come Lui deve farla La fish Fish E lei Ok Ok Dai che dovete andare A casa Si stanno divertendo Alla grande Comunque Tutte e due Guardala lei Molto giocosa Dai che sono le 5 di mattina E domenica Non lavorano Ma come domenica Si stanno lavorando a casa Vabbè Vabbè E domenica E domenica Non lavorano Ehi Non hanno più l'interazione Di andare a casa No Bene Dai Andate a casa Ok Stanno andando Via Sono le 5 del mattino Sweet home Dov'è lei Che stai facendo Che sta aumentando Perché viola Perché c'è cosa Forse si Guarda un canale comico Infatti E lui A fare la Si sono invertite Le stanze Sbagliate Allora Il soffiatore Di bolle Dove lo trovo Non lo so Ma intanto Vediamo i bisogni Sono ok Sono ok I bisogni Sono le 6 del mattino Aspettiamo Che si faccia Un orario decente Dato che è domenica E poi Magari Gabriel Pulisci questo piatto E poi magari Andiamo A fare un appuntamento In quattro Andiamo Non lo so Al ristorante Trappolese A mangiare Sushi Do you Do you Do you Da buste Io volevo anche Allungare i capelli Alla nostra lucia Perché Questa faccina Ok Volevo allungare i capelli Quindi se vado qui E fa Perché Ah perché Troppo giocosa Quindi cerca di calmarti Fai una faccia buffa Datti una sistemata Dovrebbe essere questo Per Cambiarle un attimo i capelli O si dà una sistemata a lei No Si dà una sistemata No Io Scegli un abito Modifichi il sim Così Ma si sta sistemando Ragazzi Che c'è Non si può dare una sistemata E qua No aspetta Devo fare Modifichi il sim Vediamo se lo può fare Ok Vediamo se possiamo Allungare i capelli O le lasciamo questi Non lo so Eccoci qua Allora I capelli Vediamo 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 Solo che Certo Mamma mia come cambia Ah No Però ci voglio Eh questo è il colore Giusto? Uguale Qua Oddio non ci sono No No la francia Così No raga Ma cambia totalmente Però vorrei farle Allungare i capelli Intanto dobbiamo fare per forza Questo è contenuto Questo non è contenuto Personalizzato Perché? All'intanto dobbiamo fare Per forza Contenuto Personalizzato Perché quel colore Di capelli Si può trovare solo Col contenuto Puffs Analizzato Quindi C'è la coda Oppure questi Vedete? È più scuro Però C'è più acceso Eh? No Non ci sono Aspetta Questa c'è anche Le treccioline Vediamo Non c'è il colore Però giusto No Scusa Questo Non c'è il colore Questi Aspetta Wow Proprio Super fluo Fluorescenti Oddio Guardate che sono ricci Oh mio dio Evitiamo In su è questo Ma non Mi sa che Andrà a finire Che lascerò quelli Se no La coda Ma non mi piace Non mi gusta Proprio Per niente Niente Mi sa che Lasciamo La signorina Così Però le cambiamo Magari le scarpe Perché Questo outfit Mi piace Ma non con queste scarpe Oh mio dio Che sono queste Ah Sono per Halloween Infatti Anche queste Guardate Che buffe Non le troverò mai Già lo so Beh Forse 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 Queste Non mi piacciono Non ci sono scarpe Che mi piacciono Ma perché Mamma mia Forse queste Le metto Va bene Le metto queste E basta Niente Cappelli Alla fine Gli lascio Così Niente Si è rimasta così Alla fine Mi dispiace Sono le 8 Ma alle 8 Non si va a mangiare Al sushi Quindi possiamo andare Con il nostro amico Gabriel Tutte e due Appassionatamente Alla spa Si Oppure passiamo Proprio una giornata Insieme Insieme Non so Uno delle coppie Così Vediamo chi scegliere Intanto Facciamo viaggia E andiamo Gabriel Prima con Aurora Facciamo Aurora E Thomas Oppure no Facciamo Austin Si Andiamo tutti e quattro Alla spa Tutti vengono con me Si Allora Che carini Allora Newcrest E andiamo Alla spa Sinceramente Non so neanche io Come sono Questi Lotti Perché non li ho visti Quindi Li ho solo messi Li ho visti in foto Così però Può essere che Sono brutti Però non penso Dai Dalle foto Sembravano carini Oh Eccoci qua Ok Già sono andati Sono partiti Allora Oddio Che sono queste cose Va bene Va bene Si entra da qui Entriamo da qui Pure noi Ok Entriamo Entriamo Allora Dove vanno Su Qua cosa c'è Ah no Si sono andati A cambiare Ehi Si sono andati A cambiare Anche lei Quindi anch'io Scusa Indosso L'accappatoio Che bello Wow Guardate fuori Che bello Ma è un ristorante pure Ah no Questo è il ristorante Che Questo è il ristorante Fra 30 minuti Inizierà lezione di yoga Di centratura energetica Trova e avvisa L'istruttore di yoga Se desideri partecipare Ah ah Ecco Partecipiamo tutti insieme Qui c'è un bar Molto carino L'ha messo? Si Andiamo su Qui si fanno i massaggi Mi sa Ora pedicure Cosa si fa? Ai piedi E alle mani Si Manicure pedicure Ah però vedete Che bello Che qui Questo è un altro lotto Però E c'è il ristorante Vedete che carino Che poi è È quello cinese No Non è quello cinese Giapponese Scusate Allora Qui Ah ecco E allora Oh è già iniziata Oh uffa È già iniziata Scusa Lei è Aurora Mannaggia Io volevo partecipare Questi Wow C'è anche la palestra E quindi Ma dov'è Gabriel? Dov'è? Si fa Ma fanno un massaggio Eh Fatti fanno un massaggio Ci vuoi far fare Fallo fare Ricevi un massaggio Ehm Oh Costano Oh Facciamo questo Hai visto che qui La conosci Dai E tu Sei rimasta qua Che fai? Cerca di calmarti Perché è giocosa Uffa Io volevo fare yoga E invece Non si può Ed Non si può Magari ci facciamo Ah c'è anche la piscina Ah Uh c'è anche l'idromassaggio Ah che bello Ecco c'è il tetto Bene Allora Vediamo dov'è Ah ora è diventata flertante Guardate Queste sono cose normali Eh Facciamo eseguire Una sessione Concentrazione mentale Dai Nessuno segue il maestro Peccato È già iniziata Sto dormendo Che cosa bellissima Acquisita l'abilità di benessere C'è pure l'abilità di benessere Aurora sveglia Vediamo invece Gabriel Ah Qui si fa fare il massaggio È stupendo anche che c'è la musica rilassante Ma è brava questa a fare massaggi Ma fai là qualcosa C'è ti ha pagato 120 simoleon E sei immobile Che fai le magie così Da lontano Ma non lo capisco io Uffa Dai Forza Niente Niente Allora lei fa yoga al contrario Mentre tutti lo fanno di là Lo fa di qua Qui c'è il figaccione di Hostel Ma si è finita la lezione Non so che succede Curiosità per il Guardatela Ma che state Che stanno facendo Niente Lui è un po' triste Sinceramente Si è finito Fratelli di inizialazione di yoga Si Facciamola Qua Eeeh 110 Basta Faccio il file là Col maestro Ehi Guardatela Ci hai provato Dai Sì è una cosa Molto molto carina Comunque Eh Gabriel Sono amico Sto per andare a provare Il ristorante Qui Ti riferivi Vieni anche tu Ah Eh amico Sono impegnato Mi sto facendo fare un messaggio Da una Ah è finito Allora vai pure tu A fare yoga Se non è troppo tardi Dov'è Dov'è No è già iniziata È già iniziata Comunque è troppo caro Lo yoga Eh Bello Perché sta ferma Signorina Perché non mi fa selezione Lucia Ok Scusa ma non sta partecipando Ma sto partecipando Boh Vabbè E sai che ti dico Io vado Qua Eh Eh Oh mio dio Cerca di avere un figlio Ma perché si può fare pure nella vasca Fai figli Che non ha vasca Con Oh mio dio Vediamo che succede Non l'avevo mai vista Questa cosa Ma Austin è un po' Indegnato Dai Tutti immobili Forse devo aspettare Che Finisca la lezione Intanto Facciamo Imposta colore della luce Pure il colore della luce Facciamo così Ma Oddio Non è che Cambi così tanto Scusate ma Niente Niente Riproviamo No È sparita Ma eccola Dai Forza Mi entra Entra senza vestiti Insieme Bene Entra senza vestiti Entra Entra Insieme Dov'è lui? Eh Comunicazione per l'importante promozione al lavoro Oh mio Thomas Mi ha fatto le congratulazioni Dove sta andando? Sta andando a preparare un tramezzino Lei Aspetta 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 Hanno finito la lezione È finita la lezione Vai Forza Forza Sì Oddio Che ho l'occhio Vediamo Eccolo È davanti ad Aurora Bene Sta puzzando lui Non è lui che puzzano Era Aurora Stanno intanto Stanno proseguendo Avete visto? C'era Gabriel Che faceva la corsa Bravo Gabriel 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 Oh mio Dio Nella vasca E trovo assaggio Oh mio Dio Nella vasca E trovo assaggio Vediamo che succede Vanno sott'acqua? Oh che carini Oh mio Dio No ragazzi Scusate Oh mio Dio No ma è stupendo Che carini Oh mio Dio Ma lui è l'ercio Ho sbaglio Era tutto sporco Che schifo Wow Che carini Oddio Ok Ok Soletica senza pietà Dove vai? No Che succede a lei? Sta puzzando Ma chi chiami? Che cos'è? È per lui? È veramente allergetico Ma perché quel Oh lei Che cosa sta succedendo? È stanca Dai però è stato bello Particolare Sul sul Che cosa sta succedendo? 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 Grazie a tutti.